Non ce l'ha fatta Alessandra Madonna. La giovane 24enne è deceduta a causa di lesioni interne. La mamma Olimpia non ha retto lo strazio ed ha tentato il suicidio. La donna è stata ritrovata da due passanti che hanno allertato i carabinieri e l'ambulanza che sono immediatamente intervenuti conducendole in ospedale dove i medici le hanno fortunatamente salvato la vita. Sul corpo della bella 24enne invece è stata predisposta all'autopsia. Il magistrato di turno vuole vederci chiaro e comprendere cosa sia realmente accaduto questa notte a Mugnano su via Pavese. Il suo ex Peppe Barriale è invece accusato di omicidio volontario. Secondo una prima ricostruzione pare che la giovane abbia atteso il 24enne nei pressi della sua abitazione. I due hanno cominciato a discutere. Lui era a bordo della sua vettura, lei fuori. Barriale ha poi ingranato la marcia nonostante Alessandra forse ancora lì a parlargli. La giovane si è quindi aggrappata alla vettura ed è stata trascinata per diversi metri all'interno del parco. Peppe, resosi conto di quanto accaduto, l'ha poi accompagnata in ospedale. La ragazza però era in gravissime condizioni. Per lei è giunta infatti rapida la morte cerebrale. È stata tenuta in vita per ore fin quando intorno alle 13 e poi morta. Il nosocomio giuvianese è stato preso d'assalto da amici e parenti sconvolti dalla terribile notizia. Qualche amico ha parlato di un rapporto purtroppo che si trascinava da molto tempo, forse contornato anche da qualche violenza. Lui aveva un'altra donna ma la cercava ancora. Lei non si rassegnava la fine di questo amore. Conviventi a Roma fino ad un anno e mezzo fa, la coppia si era poi lasciata perché pare che lei avesse scoperto un suo tradimento. Ma da mesi la storia non riusciva a concludersi e sembra che lui abbia avuto anche qualche reazione non proprio consona, particolari raccontati dagli amici di lei che ora chiedono giustizia e verità per una morte assurda.